eccoci ragazzi non siamo impazziti ma quasi eccoci ancora sul canale oggi parliamo di prodotti molto particolari molto intelligenti di tecnicismo esattamente ma prima di entrare nei dettagli ricordatevi di iscrivervi al canale campanellina se no Pimpos viene in ferie con voi e gradito ospito all'inclusive siamo in cinque famiglia ma quindi seguiteci anche su facebook e instagram mi raccomando ok tornando a cosa parliamo oggi Pimpos allora oggi parliamo di Outer Barrel per chi è un po meno esperto è la canna finta nella quale viene inserita all'interno la canna dove passano i pallini per sparare ok esatto e quindi la canna esterna rispetto si viene chiamata Outer Barrel perfetto oggi però parliamo di un prodotto particolare assolutamente parliamo del prodotto Grizzly Lab che ha creato queste canne in alluminio molto leggere con la parte finale in polvere sintetizzata sta facendo plastica polverata e uno dirà sì ma questo pezzo qui che non è di metallo è delicato fragile no abbiamo fatto dei test montandoli su degli upper diversi di anche di diverse marche stringendolo molto di più di quello che bisogna stringere quando si assemblano le repliche e mettendolo in morsa proprio sforzando al massimo il prodotto resiste e tiene ok quindi ve lo consigliamo perché ma perché ha fatto queste canne in alleggerite diciamo perché sono alleggerite quindi con un terzo del peso della stessa canna in classiche che si trovano in giro un terzo tu hai una lo stessa diciamo la stessa prestazione hai avendo una replica più leggera molto più leggera parliamo in soldoni di dimensioni di pesi quindi abbiamo qua i due esempi classici abbiamo una 274 che per farvi capire mk 18 giusto per darvi un'idea della lunghezza diciamo quella standard di costa e costa buonanotte pesa 168 grammi esatto quella di grizzly lab 61 quindi siamo poco meno di un terzo avete risparmiato un etto e 20 che uno dice un etto e 20 ma non è tanto un etto e 17 ok un etto poi si grida un etto non è tanto un etto ma su un'arma che pesa due chili se comunque al 5 per cento di peso in meno la parte anteriore insomma è veramente importante parliamo quella per la m4 a 1 classica da 363 questa è la standard 2,38 grammi che ruota 82 quindi veramente qua siamo molto molto vicini a un terzo ok quindi è impressionante questo risparmio di peso soprattutto su una replica in questo caso così assolutamente più lunga il risparmio è veramente tantissimo quindi oltre alle canne rigate coniche lisce di grids lab che già conoscete di cui già abbiamo parlato vi consigliamo assolutamente anche questo prodotto da abbinare a un m4 assolutamente di varie lunghezze un'altra cosa molto particolare è che se voi avete bisogno di una canna di una lunghezza particolare noi ve la facciamo esattamente su misura allo stesso costo di quella standard che viene fatta con le misure in più una cosa che dobbiamo dire è che all'interno all'interno queste canne hanno dei centratori che servono per evitare che l'inner barrel possa leggermente muoversi e di conseguenza migliorano la precisione di tiro fantastico ok ragazzi qualsiasi domanda scrivetela pure qui sotto trovate questi altri prodotti grids lab sul nostro sito esatto lascio qui sotto il link e alla prossima alla prossima ciao ciao